alla scoperta della cucina dello chef Cesare Bassi ci troviamo nelle cucine della griglia del mare con lo chef Cesare Bassi Cesare oggi ci prepari una specialità della casa si oggi prepariamo la nostra specialità del nostro ristorante che è una crudite di mare che pesci servono? allora fondamentalmente servono pesce fresco in base al pescato di facile reperibilità in questo caso noi usiamo scampi, gamberi rossi, mazzancolle, ostriche e poi prendiamo dei filettini di pesci in questo caso abbiamo rana pescatrice, palamita, cernia, orata, ricciola, salmone e tonno rosso perfetto e con questi ci facciamo le tartare? con questi ci facciamo le tartare, sì procediamo prendendo tutti i nostri filettini e li tagliamo tutti a cubetti una volta che abbiamo tagliato tutto il pesce lo andiamo a condire un pizzico di sale, un po' di pepe e un goccio di olio extravegine di oliva a questo punto prendiamo i crostaci li priviamo della parte inferiore andiamo ad aprire le ostriche prendiamo il nostro piatto da portata e con l'aiuto di un coppapasta andiamo a procedere sistemiamo i nostri crostaci guardiamo il nostro piatto un po' di prezzemolo riccio delle scaglie di sale un goccio di olio extravegine e due spicchi di limone vi aspettiamo alla griglia del mare con le nostre crudite